Mantenere l'azienda ospedaliera Marche Nord, bocciare definitivamente l'idea di un nuovo nosocome a case bruciate e insistere piuttosto sull'ospedale di Moraglia, costruendo sul già costruito un progetto modulare ampliabile a step rispetto ai 400 posti letto attualmente previsti dalla regione Marche. È stato un invito all'amministrazione regionale ad uscire in fretta dallo stallo, quello lanciato ieri nella mattinata di martedì dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, nei confronti delle prospettive di ristrutturazione dell'edilizia ospedaliera. È in corso in tal senso un filo diretto tra Ricci e il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, fatto di frequenti sopralluoghi sulle aree interessate. Naturalmente insistere su Moraglia presupporrebbe un futuro molto diverso per quello che riguarda la destinazione dell'ospedale San Salvatore di Pesaro dove ci troviamo oggi. Se Moraglia avrà semaforo verde, Ricci ha messo sul piatto un paio di idee per il San Salvatore che potrebbe essere parzialmente trasformato in una casa della salute in cui accorpare tanti ambulatori attualmente sparsi per la città fra Vianitti, Viananter e parzialmente in un progetto pilota con residenze per anziani non autosufficienti. Sono idee sul tavolo di un futuro non troppo lontano perché secondo le prospettive di Matteo Ricci si punta a raggiungere un accordo su un piano d'azione già entro il mese di settembre. Non aspetta invece settembre il pronto soccorso del San Salvatore dove già da qualche giorno è stato allestito un cantiere che prevede la riorganizzazione degli spazi. Tra queste quella di una separazione dei percorsi sanitari per i pazienti sospetti di contagio da Covid-19, lavori che interesseranno anche una riorganizzazione della portineria, nuovi spazi triage e rinnovate sale d'attesa.